Buonasera e ben trovati ad una nuova edizione del Rieti Life Tg, l'appuntamento quotidiano con tutte le notizie di Rieti e della provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. Arriva il grande freddo sul Rietino con le correnti geride in arrivo dalla Russia, interesseranno anche il centro Italia e il termometro non farà sconti. Già venerdì la minima attesa intorno ai meno 4 gradi centigradi, arrivando al massimo a 11 gradi centigradi nel cuore della giornata. Sabato e domenica la minima scende ancora e si arriva fino a meno 7 tra notte e mattina, un miglioramento ma sempre sotto zero e atteso per lunedì. A Terminillo intanto è tornata la neve e la nebbia, neve che però, secondo le previsioni di Trebimeteo, è limitata alla sola giornata di oggi. Frenate le speranze degli operatori appiedati dagli impianti fermi, nonostante i tanti turisti che scelgono la montagna reatina per il weekend. Ci sono altri due morti per Covid nel Rietino, nell'ultimo bollettino. Si tratta di un uomo di 59 anni, definito fragile da Asle, che non aveva completato il ciclo vaccinale, e una donna di 91 anni ricoverata nel reparto di malattie infettive. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi, dunque, sono 344 le vittime totali del Covid a Rieti e provincia. Nell'ultimo bollettino dirammato da Asle sono stati registrati altri 221 nuovi casi e 210 guariti. Il totale in tutto il territorio provinciale va a 6140. Scendono lievemente i positivi totali nel capoluogo. Forte di 60 nuovi casi e 62 negativizzati al tampone di controllo, Rieti cittava a quota 2180. È in vigore da oggi il Green Pass per entrare nei centri estetici e nei parrucchieri. A breve, però, il Premier Draghi firmerà il decreto con la lista delle attività dove non sarà obbligatoria, dal 1 febbraio 2022, la certificazione verde per entrare. Non servirà per alimentari, supermercati, pescherie, negozi di bevande, certificazione verde che non sarà richiesta neanche per comprare medicinali e prodotti per la cura per il corpo, oltre a parafarmacie e negozi che vendono i prodotti igienico-sanitari. Libero ingresso anche negli ottici, niente certificato per le edicole all'aperto, mentre servirà per le librerie. Dal tabaccaio servirà il Green Pass base. Paura questa mattina sulla salaria apposta. Un tir, dopo aver sbandato, è impattato contro il guardrail e infine contro un muro laterale, rimanendo in panne sulla sede stradale. La viabilità è stata interdetta per alcune ore per consentire le attività di rimozione del mezzo pesante. Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso da 118 e vigili del fuoco. La Lega di Rieti è in movimento. A pochi mesi dalle elezioni comunali, il coordinatore cittadino del Carroccio, Gianluca Coppo, si è dimesso dalla carica, informando i compagni di partito, su tutti il coordinatore regionale, Claudio Durigon, e quello provinciale, Paolo Mattei. Proprio quest'ultimo, sentito da Rieti Life, ha riferito di non avere notizia di queste dimissioni, presentate da Coppo per motivi personali e che risalgono a qualche decina di giorni fa. Attesa una reazione ufficiale della Lega Reatina. Già disponibile sul sito, su Facebook e su Instagram, il punto politico del direttore di Rieti Life, Emiliano Grillotti, e dalle 21 appuntamento con la rana nel pozzo, ospite il presidente di Federalberghi, Michele Casadei. È in campo in questi minuti la nazionale italiana di Futsal. Sfida la Finlandia nella prima degli europei. In campo, il laterale reatino, classe 1994, Matteo Esposito, scelto per vestire l'azzurro dall'ex tecnico della Real Rieti, Massimiliano Bellarte. L'Italia nel gruppo B, composto da Kazakistan, Italia, Slovenia e Finlandia. Era questa l'ultima notizia del telegiornale di Rieti Life. L'appuntamento è domani, sempre alle 20.45, su rietilife.com, Facebook e Instagram. Buona serata.